Anche quest'anno in occasione di San Nicolò l'Arcivescovo di Trieste Monsignor Giampaolo Crepaldi ha inviato una lettera indirizzata ai più piccoli. Nella lettera Monsignor Crepaldi invita tutti a pensare a quanti oggi non hanno potuto ricevere alcun dono. L'Arcivescovo chiede a tutti di provare ad intraprendere un viaggio immaginario in Ucraina per ascoltare il pianto dei bambini terrorizzati quotidianamente dalla guerra, per entrare nelle loro case, per guardare le loro lacrime. Sono sicuro, scrive il Vescovo, che alla fine di questo viaggio sgorgerà dai vostri cuori forte un no alla guerra. Noi vogliamo la pace, che Monsignor Crepaldi sottolinea è un nome fra i più belli di Dio, un dono del suo cuore, oltre ad essere la prima parola pronunciata da Cristo risorto. Ed è ancora la pace che l'Arcivescovo augura a tutti.